buona onda dai dai a questa ora capicciolo, benvenuto a questa chantelin stai ricordando il tempo dell'ecopapa è negro, non può credo fuori a verle San Vito è legale, ho fatto a caleare con questa camera aca hai un comando che sta a la hueva oh tío, è calzato allà ora turco che tal sta la camminata? no, non lo chiede no, non lo chiede ciao che buona che buona è piccola la città è arrivato qui al amortizzare qui sta da 20 kg qui sta la vitamina e il fosforo il nostro gruppo ci sono andato ci sono andato ci sono andato ci sono andato qui ci sono andato qui ci sono e ci sono andato qui ci sono andato